Da oltre 15 anni gli Executive Duke and Care realizzano operativamente il risanamento delle aziende in crisi. I risultati raggiunti ci permettono di dire che siamo affidabili, credibili e riconosciuti come tali da investitori, advisor e banche. Operiamo a livello internazionale perché partecipiamo al network o Globalize, che è il più grande network di interim management al mondo. I nostri Executive, accuratamente selezionati e testati, hanno tutte le competenze tecnico-funzionali richieste e soprattutto le capacità psicologiche a generare un allineamento di interessi tra tutti gli stakeholder, investitori, banche, advisor, soprattutto la proprietà e il management delle società coinvolte. Queste condizioni sono da tutti ritenute indispensabili per ottenere il supporto finanziario necessario, condurre correttamente tutte le iniziative fino al suo completamento e infine riconoscere un ritorno a quelli che hanno sostenuto l'iniziativa. Tutto questo significa contribuire concretamente al risanamento delle aziende che costituiscono economiche italiane.